Siamo a Murano ai piedi del ponte Zanioli e siamo qui per documentare la condizione in cui il ponte versa. Questo ponte è stato ricostruito interamente tra il 1999 e il 2000 da insula. La struttura portante del ponte è in acciaio ed è costituita da due archi e tre cerniere. Da una parte vi è una rampa in calcestruzzo che porta alla fondamenta. La copertura della volta è costituita da tavole di rovere, ma il problema è che queste tavole attualmente sono tutte disconnesse e tutte, come vedete, logorate. Abbiamo depositato un interpellante proprio per chiedere all'amministrazione quando ha intenzione di mettere mano alla manutenzione di questo ponte. Per oggi da Murano è tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.